Ciao a tutti, in questo video torniamo a parlare di un argomento che avevo già trattato in passato, ovvero il Librem 5, questo smartphone che non è né Android né iOS, ma è molto interessante perché è un Linux al 100%. L'ho messo anche nel mio video sulle tecnologie più interessanti del 2020, andatelo a vedere se non l'avete visto. In questo video vi farò vedere come potete provarlo senza averlo fisicamente, ovvero con l'emulazione. Allora questa qui è la pagina della documentazione del progetto, purtroppo dal punto di vista hardware ci sono stati un po' di ritardi, però dal punto di vista software il progetto sta andando avanti e secondo me è molto interessante seguire gli sviluppi. Allora questo qui è il sito ufficiale di sviluppo, quindi developer.purism.sm e in questa pagina vi viene esplicitato come dovete fare per provare appunto questo software che è un Linux al 100%. Molti software sono gli stessi che potete avere sulla vostra Linux, quindi Ubuntu, Debian o altre e anche nella stesso Ubuntu molte modifiche sono presenti, per esempio la gestione degli aspetti responsive, quindi quando una finestra non è abbastanza larga viene visualizzata la colonna e dopodiché cliccando su un elemento della colonna si può andare appunto nella parte della finestra che ci interessa. Appunto vi faccio vedere come funziona, qui appunto c'è questo link image build, dal punto di vista software dovete avere un sistema che vi permette di gestire la virtualizzazione, io utilizzerò Gromboxes che appunto lo potete installare tranquillamente su Ubuntu, tuttavia si tratta di un disco virtuale quindi potete usare quello che preferite. Quindi cliccando qua su image build vi viene presentato questa lista di appunto build e non tutte sono andate a buon fine. Per poterla provare nell'emulatore la cosa più semplice è quella di cercare x86, come vedete ce n'è una il 24 aprile però è rossa quindi non ve la consiglio perché evidentemente non è andata a buon fine. Proviamo in un'altra, c'è questa qua la 4159, questa qua è andata a buon fine. Quindi cliccando vi vengono mostrate appunto il disco in formato kukau2 oppure il disco in formato img.xz, questo qui è diciamo zippato e se non volete scomprimere potete scaricare direttamente il kukau2 altrimenti potete prendere questo qua sopra che occupa decisamente meno e poi appunto utilizzare questo come disco per far funzionare la macchina virtuale. Io ho già scaricato questo img e quindi a questo punto lo apro, quindi attraverso groundboxes oppure altri sistemi di virtualizzazione potete fare una nuova macchina virtuale e poi file, immagine, sistema operativo. L'estensione è abbastanza indifferente io l'ho messo qua sul desktop e uso questo qua che è appunto quello che ho scompattato dal file che ho scaricato prima. Qui mi viene detto la memoria che andremo a utilizzare di ram va bene 2 giga, questo qui è il nome ok faccio crea e a questo punto è partito e quindi possiamo vedere anche anzi ancora in importazione. ok una cosa che vi consiglio di fare essendo comunque un disco è quello di farvi uno snapshot così se fate delle modifiche queste modifiche diciamo potete tornare indietro se succede qualcosa di brutto e questo lo potete fare qua su proprietà snapshot creiamo appunto lo snapshot e questo qua lo chiamo primo avvio ok chiudiamo qua intanto ha fatto il boot diciamo il boot è identico a quella di una distribuzione linux debian quindi nulla di particolare e questa qua è l'interfaccia che si presenta ingrandisco un po' così ok e quindi tenendo premuto col mouse possiamo far scorrere questo slider e mettere il pin quindi 1 2 3 4 5 e 6 questo è il pin di default e se volete potete cambiarlo ok queste qui sono le lingue supportate attualmente però come dicevo prima è un ambiente linux praticamente standard quindi le persone che traducono una distribuzione linux non noteranno nessuna differenza io lascio qua inglese quindi faccio next qua mi viene chiesta la tastiera mettiamo inglese americano next questo qui sarebbe il primo avvio qua mi viene chiesto se voglio dare appunto l'accesso alla locazione tramite il mozilla location service quindi per fare la triangolazione tramite le reti wifi questo qui se voglio riportare appunto i bug comunque lasciamo disabilitato avanti qua se voglio mettere qualche account online quindi next cloud il sistema appunto per gestire backup e cose così oppure emap smtp per quanto riguarda la posta elettronica anche qua non metto nulla ok siamo pronti a utilizzare il librem 5 ok questo è come si presenta appena installato e come dicevo la caratteristica di questo sistema operativo è che è molto ma molto simile a quello che uno può avere su una distribuzione linux normale e quindi non c'è la paura che magari il produttore smette di supportare il nostro smartphone e cose di questo tipo questo qui è il browser che viene utilizzato che è web e proviamo andare su youtube ok mentre che carica vediamo se vi faccio ok questo è youtube proviamo a cliccare su questo video e come vedete ci sarebbe stato un redirect su rtsp però appunto non c'è il player per visualizzare questo tipo di video però più avanti vi farò vedere comunque come si possono vedere i video anche su questo smartphone qua allora vediamo se mi fa vedere le informazioni questa qui è la tastiera che magari vediamo dopo ok qua faccio about web e come vedete utilizza epifany web 3.32 e qua invece sulla mia ubuntu 20.04 apro lo stesso programma faccio informazioni su e come vedete qui c'ho il 3.36 tra l'altro mi pare che con un aggiornamento passa al 3.34 quindi comunque è anche abbastanza allineato con gli sviluppi di linux contemporanei ok e qua cliccando su questa parte qua in basso questo triangolo si può vedere l'interfaccia quindi si ha la possibilità di cercare le applicazioni oppure cliccare su quelle presenti in alternativa nella parte superiore si vedono le applicazioni aperte vi faccio vedere appunto ho iniziato a vedere youtube vi faccio vedere come si può vedere youtube la via più semplice e quella di fare una cosa normalissima ovvero quella di installare firefox firefox tuttavia non ha l'interfaccia adattata per questo smartphone e quindi non sarà come dire ottimizzato per il mobile ma funziona questo qui è il programma che vi permette di installare nuove applicazioni volendo potete anche utilizzare apt-get e quindi qua cerco firefox ok e faccio installa anche qua mi viene chiesto la password o pin mettiamogliela ok sta installando mentre che installa vi faccio vedere il terminale quindi qua andando su terminale come vedete potete controllare la versione del kernel potete utilizzare qualsiasi comando che appunto siete abituati ad utilizzare su Linux e quello che stiamo provando è la versione x86 tuttavia lo smartphone invece è ARM quindi sarà sull'architettura ARM altra cosa vi faccio vedere i messaggi come vedete qua ci sono tutti i messaggi quindi è una versione di Linux a tutti gli effetti e l'altra cosa che vi faccio vedere è sempre nel terminale per esempio potete collegarvi a un altro server via SSH o in alternativa vi potete collegare a voi stessi giusto per vedere come cambia il terminale che andremo a usare quindi localhost yes e come vedete quando vi collegate a un computer remoto cambia il colore del terminale e quindi qua mettiamo sempre la stessa password quindi adesso sono collegato sempre allo stesso smartphone ma tramite SSH questo è utile se vogliamo utilizzare eventualmente lo smartphone come file server o cos'è del genere nel frattempo è uscita la notifica che mi ha scaricato Firefox quindi andiamo a provare Firefox qua vabbè batteria modalità modalità verticale oppure orizzontale e se vogliamo avere le notifiche oppure no intanto chiudiamo qualche applicazione come vedete Firefox versione ESR che è quella a lungo supporto ok quindi proviamo YouTube non è ottimizzata ma comunque è abbastanza usabile ed è la versione di Firefox quella per desktop proviamo questo ok basta perché non voglio avere il copyright strike ok quindi questo appunto era Firefox ed è un'applicazione non ottimizzata per questo dispositivo vediamo invece le altre applicazioni che sono presenti chiudiamo allora qui abbiamo la calcolatrice che è la stessa che c'è appunto su Ubuntu e come vedete qua avete il menu aggiuntivo ma non avete la possibilità di chiuderla per chiuderla dovete sempre andare qua sul triangolo in basso ed eventualmente chiuderla c'è di serie il lettore di PDF il misuratore di risorse di sistema ho provato con Htop e il sistema appena avviato occupa circa 630 MB di RAM e qua è come si presenta storage e qua informazioni sulla temperatura del telefono le applicazioni che potete installare tramite software sono praticamente quelle che potete installare su Ubuntu o su un'altra versione di Linux desktop tuttavia non tutte sono ottimizzate per questo tipo di utilizzo vi faccio vedere ancora G-Edit anche qua potete scrivere file di testo e qua potete fare salva e questa qui appunto è l'interfaccia che vi permette di salvare sul dispositivo ok l'altra cosa interessante è che questo telefono potete aggiornarlo come un qualsiasi sistema Linux quindi sempre dal terminale potete fare sudo apt anche di qua però sono più comodo a digitare dist upgrade password e quando andate in modalità root viene appunto rosso la parte superiore ok quindi qua starebbe facendo l'aggiornamento ma non sono interessato a farlo adesso allora conclusioni allora la prima conclusione che trovo abbastanza piacevole è che comunque il sistema operativo funziona e non ha tanti software nuovi ma come potete vedere i software sono molto simili alla versione desktop di Linux e l'altra cosa che tengo comunque a precisare è che non si tratta di un telefono ancora per tutti sia per il prezzo e sia perché comunque non ci sono tutti i programmi che uno è abituato a usare su Android o su iOS tuttavia essendo un telefono molto simile a quello che abbiamo sul desktop possiamo usare i tantissimi software che già sono stati pacchettizzati per Debian anche se magari non sono ancora ottimizzati per il mobile e l'altra caratteristica interessante è che qui abbiamo accesso a tutti i linguaggi di programmazione per esempio Python, Node.js o altri che siamo abituati già ad utilizzare su Linux o su altri sistemi operativi e con questo è tutto come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non siete iscritti vi saluto, ciao!